Nasce in Abruzzo una nuova tipologia di struttura turistica. Agli hotel, agli alberghi diffusi, ai bed and breakfast, alle seconde case, si aggiungeranno infatti i Marina Resort, strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno dell'unità di porto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Si passa dal parcheggio con pochi limitati servizi al diportista ad un vero sistema di tipo alberghiero. Il principio è quello di fare in modo che sempre più i porti turistici diventino degli alberghi del mare, anche attraverso apposite convenzioni per i servizi, con un completo livello di accoglienza, vere e proprie strutture ricettive all'aria aperta, che saranno classificate in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele. E' senza dubbio un'iniziativa che consentirà di ampliare e rendere più appetibile l'offerta ricettiva, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis. Si cercherà di intercettare nuove fette di mercato, si tratta di un nuovo modo di concepire il turismo ripensando le strutture portuali affinché l'Abruzzo, con le sue inestimabili bellezze, possa rinnovarsi costantemente essere sempre più competitivo.